Questo video in realtà sarebbe dovuto essere la recensione di un libro, su cui avevo anche maturato un parere diciamo discretamente positivo, ma dopo aver scritto le prime mille parole mi sono reso conto che la metà delle frasi erano qualcosa del tipo libro bello, ma capito l'interessante anche se... e come dice lo zio di Biasci, quando una frase contiene le parole anche se tutto quello che viene prima non conta, al che mi son detto, perché parlare di un libro con evidenti difetti quando potrei parlarti di alcuni video molto più interessanti visti negli ultimi dieci giorni. E poi ancora, sempre tra me e me, ho iniziato a pensare che ricevo spesso apprezzamenti quando segnalo video di altri creatori di contenuti, quindi se ti piace l'idea potremmo anche pensare di renderlo un appuntamento fisso o semifisso, più o meno una volta alla settimana ti segnalo quello che mi è più piaciuto, così se ancora non l'avessi visto puoi recuperarlo a colpo sicuro. Fammi sapere cosa te ne sembra dell'idea, e io intanto parto subito con quelli di oggi, e visto che abbiamo nominato lo zio di Biasci, partiamo proprio da lui, cioè da Biasci, non da suo zio, che ha pubblicato un video interessante intitolato Come dimagrire 10 chili. Il titolo è chiaramente studiato per i motori di ricerca, oltre che per ingolosirti e attrarre il tuo click, ma glielo perdoniamo, perché è come sempre un contenuto estremamente interessante, approfondito, pragmatico, saldamente ancorato alla più recente letteratura scientifica. Insomma, non è la solita dietina settimanale promossa dall'influencer di turno, ma la raccolta di una serie di principi assolutamente fondamentali quando desideri non solo perdere 10 chili, ma soprattutto quando quei 10 chili li vuoi perdere in modo sostenibile e per sempre. Non farti spaventare dagli aspetti più tecnici che tocca, portati invece a casa i concetti generali, il senso dell'approccio che spiega. Non ti spoilero nulla, il video vale tutti i 26 minuti che dura, ma un concetto lo riprendo. Dimagrire consapevolmente e con la reale possibilità di mantenere il peso raggiunto nel tempo non solo non richiede di fare la fame, ma per seguire un approccio di eccessivo sacrificio e rinuncio sarebbe proprio controproducente, sbagliato, inefficace. E questo mi ha fatto venire in mente un altro video di qualche tempo fa di un nutrizionista che è forse meno conosciuto di quanto meriterebbe. Il dottor Giuliano Parpaglioni è un biologo nutrizionista davvero competente con cui ho avuto il piacere di collaborare qualche tempo fa. Se Biasci si rivolge soprattutto a chi è giovane, magari appassionato di alimentazione e fitness, entrando per questo molto nel dettaglio nei meccanismi biochimici per fornirti gli strumenti necessari al fai da te, il dottor Parpaglioni è decisamente più accessibile e pratico, un po' come tento nel mio piccolo di fare io. Ebbene, mi è venuto in mente un suo interessantissimo video sul perché il minestrone non sia consigliato in caso di dieta dimagrante. E sai perché non è una buona scelta, perché ti spigge a mangiare troppo poco. Ecco perché l'ho collegato, perché entrambi sottolineano l'importanza di adottare ovviamente un approccio ipocalorico ma che non significa mangiare il meno possibile senza finire all'ospedale. In questo senso il minestrone è… Illuminante, nel senso che mi ero reso conto sulla mia pelle che mangiare minestrone o passato di verdura mi facesse mangiare meno, ne parla anche il dottor Greger in un libro che menziono spesso, ma illuminante perché non ero mai riuscito ad estendere il concetto da una visione più ampia. Interessante il video e superinteressante il suo canale, dacci un occhio e iscriviti. E concludiamo con la dieta del Dottor Mozzi, argomento spinoso, quasi come parlare di religione. Mi avete chiesto più volte nei commenti cosa ne pensassi e non ho mai nascosto il mio pensiero, troppo restrittiva e soprattutto non basata sull'evidenza scientifica, eppure in tantissimi vi trovate bene. E allora come la mettiamo? La mettiamo che Bressanini ha prodotto un video maestoso, è un video di 4 anni fa ma di una potenza, di un'efficacia che io posso solo sognarmi, me l'ha proposto YouTube per caso, e invece io lo consiglio a te con consapevolezza e vada bene, a prescindere dal tuo interesse o posizione sulla dieta in questione. Ascoltalo con mente aperta, ne vale davvero la pena, né io né lui vogliamo farti cambiare dieta se ti trovi bene, d'altra parte come diceva il mio professore di Organica 2, una brutta regola è meglio di nessuna regola. Ma la consapevolezza a mio avviso è sempre un arricchimento, e a questo proposito mi è venuto in mente un altro grande nutrizionista che probabilmente in questo caso conosci, il Dottor Vendrame, che tre anni fa ha pubblicato un video intitolato La dieta che mi ha cambiato la vita, sostanzialmente complementare a quello di Bressanini. In descrizione scrive Dieta vegana, dieta paleolitica, dieta chetogenica, dieta del gruppo sanguigno. Com'è possibile che molte persone stiano meglio seguendo diete che fanno fare cose completamente opposte tra loro? Se in settimana hai poco tempo da dedicare a YouTube, guarda questi quattro video e salta i miei, credimi sono serio, ne vale davvero la pena, e però poi fammi sapere qua sotto nei commenti i tuoi pareri positivi o negativi che siano, anche se faticherei a formulare critiche a questi autori e a questi video in particolare. Fammi anche sapere se questo format, questa sorta di consigli per la visione, possa esserti utile o meno, così valutiamo se renderla un appuntamento fisso ed ovviamente aspetto suggerimenti per nuovi video e canali. E se sei arrivata fin qui, grazie, grazie, grazie come sempre della tua attenzione. Ti lascio fra pochissimo tutti i link ai video citati, che comunque trovi anche qua sotto in descrizione, nel mio piccolo lo sai sono a tua disposizione qua sotto per dubbi, domande e critiche. Grazie ancora. Ciao. Iscriviti al nostro canale